Questa ricerca del Censys realizzata per Nestlé Italiana è molto importante perché descrive le nuove abitudini e i nuovi orientamenti dei consumatori rispetto al food, agli alimenti. I driver dell'acquisto sono innanzitutto la trasparenza, gli italiani vogliono sapere tutto di quello che mettono nel carrello della spesa e di quello che mettono nel piatto. L'altro aspetto fondamentale è l'attenzione per l'aspetto salutare degli alimenti. Il terzo elemento è la funzionalità, si scelgono cibi che non abbiano delle scadenze ravvicinate, che possono essere usati in maniera molto pratica in casa e infine c'è anche l'attenzione alla sostenibilità dei processi di produzione alimentare. La ricerca del Censys ci rende una fotografia del mondo del food in cambiamento, dove però l'italianità rimane una cosa centrale. Ecco, noi in questo crediamo. Crediamo che quando un'eccellenza italiana incontra un solido piano industriale, una solida visione di lungo periodo possa avere la forza per diventare un vero fattore economico.